Uomini e donne, Martina Lucchena rivela quando ha scoperto essere incinta e pubblica l'emozionante video del momento. Pochi giorni fa Martina Lucchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato la sua gravidanza. L'influencer è in attesa del suo primo figlio, avuto dal fidanzato Maurizio Bonori. Già papà di un bambino, frutto di una precedente relazione e con il quale è legata sentimentalmente da qualche anno. Piango dall'emozione, presto saremo in quattro, aveva scritto Martina in un post pubblicato su Instagram. Senza tuttavia raccontare come aveva scoperto la lieta notizia. Lo ha fatto oggi, spiegando ai suoi followers di non aver mai creduto possibile che potesse concepire. In quanto in passato i medici le avevano suggerito che per lei sarebbe stato difficile. Attraverso il suo profilo social, Martina ha raccontato. Quindi, quando l'ho scoperto ho continuato la Lucena ero talmente emozionata. Talmente felice, avevo un mix di così tante emozioni, poi aggiungendo. E ancora, Martina ha raccontato. Martina ha condiviso la storia di come ha scoperto di essere incinta su Instagram. Accompagnando il post da una didascalia in cui ha mandato un messaggio alle sue seguaci. Grazie. 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 Grazie a tutti.